Buttati dentro un secchione dell'immondizia come fossero un rifiuto da smaltire, una brutta storia, fortunatamente gli etofini arriva da Livigno, i fatti risalgono a mercoledì 12 ottobre, provvidenziale l'intervento di una coppia di operatori ecologici che aveva notato una scatola chiusa ermeticamente dentro il secchione dell'indifferenziata. Da dentro arrivavano dei miagolii, all'interno due gattini di meno di due mesi, i due operatori ecologici hanno subito chiamato la polizia locale che a sua volta ha contattato l'ente protezione animali, una volontaria dell'empa di Sondrio è andata a prendere i due gattini e li ha tenuti con sé per cercare di rimetterli in forza, ieri sono stati portati in stallo a Tirano da un'altra volontaria empa che se ne sta prendendo cura, sono stati visitati dal veterinario, per loro, racconta Sara Plozza, presidente di Empa Sondrio, sono arrivate moltissime richieste e abbiamo già individuato le famiglie adottive, appena saranno pronti per essere adottati inizieranno la loro nuova vita, chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa, aggiunge Sara Plozza, di farsi avanti e denunciare.